Previsioni per oggi. Al mattino. In pianura. Alternanza di sole e nubi sparse. In montagna. Nuvoloso con qualche schiarita. Nel pomeriggio. In pianura. Alternanza di sole e nubi sparse. In montagna. Nubi irregolari con locali acquazzoni. Previsioni per domani. Al mattino. In pianura. Alternanza di sole e nubi sparse In montagna Alternanza di sole e nubi sparse Nel pomeriggio, in pianura Alternanza di sole e nubi sparse In montagna Nubi sparse con locali piovaschi